Quello che era interessante per noi con Salvini, ricordo che a Roma non c'è la Lega Nord ma c'è noi con Salvini, quello che ha detto da subito Matteo Salvini e il nostro movimento è stato che la prima cosa e la più importante per noi era trovare un candidato che potesse sul modello di Milano, per capirci, unificare il più possibile le tante anime di centrodestra, dove per centrodestra, lo voglio specificare subito, noi intendiamo tutte quelle forze alternative e che sono in uno schieramento di centrodestra, quindi ad esclusione delle Cinque Stelle, che non si riconoscono nella politica nazionale di Matteo Renzi e quindi abbiamo sempre detto per noi l'appuntamento delle amministrative è una prima tappa per dare il segnale di sfratto a Matteo Renzi, quindi occorre trovare il candidato che più di altri possa unire per vincere. Quando abbiamo chiesto a Giorgia Meloni di candidarsi, lei ha detto di no, abbiamo provato a convergere su Marchini, su Marchini la Meloni ha detto di no, che non gradiva il candidato, per tenere insieme il più possibile quella che è l'insieme di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia abbiamo detto un sì a Bertolaso. Subito dopo, Bertolaso, come avete ricordato, ha fatto alcune uscite a noi non gradite perché andavano ad incidere nel programma, secondo noi, determinante per la città di Roma e che vede nella sicurezza il primo punto. Però di mezzo, Salta Martini, non la voglio interrompere, c'è anche un rapporto Salvini-Berlusconi, questo è innegabile, insomma, adesso questo lo chiediamo anche alla RACOMI. Certo, e tant'è che io non penso, guardi voglio subito sgombrare il campo, la vicenda di Roma non riguarda la leadership nazionale, la vicenda di Roma riguarda Roma e tant'è che in altre parti d'Italia si è trovato la giusta sintesi per individuare un candidato. Quindi questo sgombriamolo subito perché sennò rischia di inficiare la nostra discussione. Quello che è saltato subito agli occhi di Matteo Salvini, girando Roma, quindi prima ancora di ascoltare Barbara Saltamartini o i dirigenti di noi con Salvini a Roma, è stata una indisponibilità dei cittadini romani verso Bertolaso. Riconfermata nelle nostre, nei nostri gazebo dove hanno votato 15.000 persone e dove non c'era un solo candidato che abbiamo esposto ma più candidati a cui abbiamo chiesto ai romani di scegliere tra questi. Anche lì è successo che Bertolaso è arrivato ultimo tra i possibili nomi.